Spettacolare Ciao, sono Maninni e la mia canzone si intitola Spettacolare. Spettacolare racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità, amore e passione. E spesso, insomma, se si riesce ad affrontare gli ostacoli con un altro aspetto, può diventare tutto spettacolare. È un genere misto tra il pop e il rock ed è quello che mi ha sempre influenzato all'interno, insomma, del mio background. Io suono chitarra, pianoforte e strimpello batterie basso, più basso batteria, insomma, anche. Lo strumento che preferisco di più suonare, perché siamo legati da una certa affinità e da una certa storia, ovviamente, è la chitarra, perché ho iniziato a suonare, appunto, e a scoprire la musica dalla chitarra. Sono un appassionato di cucina perché la cucina per me racchiude quei momenti di quotidianità all'interno di una giornata che spesso dovremmo, insomma, accorgercene che ci fanno stare bene questi momenti. Il mio piatto preferito, il piatto che preferisco cucinare è orecchiette con crema di zucchine, salmone affumicato e burrata, schiacciata e spremuta sopra, con buccia di limone intorno. Scrivere musica è un po' come cucinare, nel senso che tu mischi degli ingredienti che spesso a volte sono anche strani. Se li pensi insieme possono sembrarti strani, però poi, insomma, basta provare, almeno per una volta, per scoprire, insomma, quello che può venire fuori. Ad Amadeus vorrei dire grazie, grazie dell'opportunità che mi stai dando e grazie, insomma, per aver scelto la mia canzone all'interno di questo festival, ma soprattutto vorrei dire Forza Milan!